salve a tutti ragazzi benvenuti oggi siamo qui tra le montagne come potete ben vedere siamo a montemarano in provincia di avellino e oggi siamo ai 50 anni di matrimonio dei nostri nonni quella in comune diciamo oggi abbiamo fatto questo video perché sia ieri ci scusiamo perché ieri non è uscito video a casa sua doveva uscire a casa a casa sua doveva pubblicarlo lui il video no io quindi ragazzi no ieri ho avuto un problema con il video che avevo registrato di fifa perché avevo registrato ma non ho registrato con i problemi che capitano ogni tanto io anche avevo registrato un draft batteria scarica avevo registrato un draft ma purtroppo è successo un piccolo inconveniente che si è scaricato il telefono e quindi non registrato niente comunque da domani si torna per a tv ovviamente domani il vlog del lunedì è cosa bellissima e poi domani stiamo insieme quindi registriamo a gogo minimo 4 5 video e poi domani non andiamo neanche a scuola e quindi ancora più video a gogo e quindi ragazzi ovviamente vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su per questo video live di commentare commentare iscrivervi al canale se non avete ancora fatto ovviamente in descrizione link della pagina facebook che di ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi